Se vuoi organizzare la tua vacanza, scegli Trezza Travel, agenzie per viaggiare. Chiedi la consulenza di Trezza Travel, agenzie per viaggiare e vieni a trovarci in via Balzico 51, nei pressi degli uffici dell'Ausino. Una legge per salvare dalle ruspe le costruzioni abusive di necessità e il provvedimento, destinato a far discutere, approvato ieri dall'Aggiunta regionale della Campania, su indicazione del presidente Vincenzo De Luca e del vice Fulvio Bonavitacola, che da tempo stanno lavorando a una soluzione per i circa 70.000 alloggi abusivi in attesa di demolizione in Campania. In pratica, la strada individuata da Palazzo Santa Lucia è quella già tracciata da qualche anno dall'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni e che prevede, tramite l'approvazione di linee guida non vincolanti, la possibilità per le amministrazioni comunali di acquisire al proprio patrimonio tali immobili, da concedere poi in affitto agli stessi occupanti. In questo modo, secondo gli esperti della regione, si risolverebbero una serie di problemi. Innanzitutto, si eviterebbe l'abbattimento, che ha procedure lunghe, costi elevati e richiede apposti siti dove smaltire i materiali di risulta. Al tempo stesso, si colpirebbero i trasgressori, togliendo loro la proprietà del bene, senza però aggravare l'emergenza abitativa. Ma tale operazione è subordinata a due condizioni fondamentali, che si tratti di un abuso di necessità e che l'alloggio non sia stato realizzato in contrasto con rilevanti interessi urbanistici e ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico. Il disegno di legge ora passerà all'attenzione delle commissioni competenti e a seguire del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Tra le novità principali, l'introduzione del concetto di abuso di necessità, da tempo al centro di un braccio di ferro tra coloro che si oppongono a ogni tentativo di sanatoria, e coloro che invece vorrebbero scongiurare una raffica di demolizioni.